Dal 1 luglio è in vigore l'assegno per i figli, un assegno mensile per le famiglie con figli che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare. Chi invece già lo percepisce, dal 1 luglio lo riceve maggiorato, conservando tutte le detrazioni fiscali. È il primo passo dell'assegno unico e universale, il primo passo per investire sulle bambine e i bambini e prendersene cura tutti insieme, accanto a loro, mese dopo mese, sempre.